E benvenuti all'edizione dell'E18 di Calabria News 24 in forma. 12 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, individuate un gruppo di persone dedicate allo spaccio di sostanze stupefacenti, i particolari nel servizio di Paolo Talarico. Spacciavano sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, e pur non essendo una vera e propria organizzazione esistevano collaborazioni fra le persone dedicate allo spaccio. In tutto sono 12 le persone raggiunte da misure cautelari eseguite alla Compagnia dei Carabinieri di Castrovillari, 3 gli arresti in carcere, 4 donne finite agli arresti domiciliari e 5 obblighi di firma. L'operazione ha permesso di portare alla luce quella che gli inquirenti considerano un'importante attività di spaccio per lo più nel Comune di Castrovillari. L'approvvigionamento invece avveniva a Cosenza. Esistevano inoltre legami di parentela fra le persone raggiunte da provvedimento restrittivo, alcune appartenenti alla famiglia degli zingari di Cosenza. Diversi gli episodi documentati con la droga che veniva consegnata a domicilio. Questo è il terzo intervento che la Procura con all'arma dei Carabinieri nel giro di 15 giorni ha portato a termine. Il fenomeno della droga è la droga pesante perché è il traffico di cocaina soprattutto, che evidentemente in una cittadina come Castrovillari era particolarmente sentito sia a livello di popolazione, perché c'erano diverse segnalazioni, e soprattutto perché evidentemente c'è un giro di denaro alle spalle, è per più rilevante rispetto al traffico ordinario. L'attività è venuta praticamente fuori quasi per caso, dopo il danneggiamento, dopo l'ingento di alcune autovetture. I Carabinieri hanno avuto evidentemente motivo di ritenere che il fatto non fosse accidentare, non fosse casuale, da lì si è attivata tutta l'attività tecnica che ha condotto poi a questo tipo di risultato, questo intervento. Ma ripeto, è un intervento che va letto in linea con gli altri due di questi ultimi giorni che hanno riguardato il territorio compreso tra Corigliano e Castrovillari. E sempre a proposito dell'operazione Piramide, il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, parla del coinvolgimento della criminalità organizzata e del ruolo delle donne. Non era una vera e propria associazione delinquere, ma le persone coinvolte nell'attività di spaccio collaboravano fra di loro. E' quanto emerge all'inchiesta che ha portato all'operazione Piramide, nel corso della quale sono sedi eseguiti 12 provvedimenti cautelari. Legami familiari che hanno fatto parlare di questa piccola dynasty, facilitavano quindi i rapporti anche nell'ambito dell'attività di spaccio, per quanto concerne l'approvvigionamento, da valutare il legame con il clan degli Zingari. Il legame con la cosca degli Zingari è quello che sostanzialmente ho già detto. Noi sappiamo, abbiamo certezza di canali di approvvigionamento che sono molto forti, molto autorevoli e che arrivano evidentemente non a livello locale ma arrivano da fuori zona. Su questo però non abbiamo, non siamo riusciti a raggiungere questo livello anche perché comunque avremmo coinvolto certamente la direzione istituzionale antimafia qualora si fosse verificata un'emergenza simile. È certo però che c'è un canale molto molto serio che rifornisce la zona, se vogliamo sintetizzare al massimo, e dove poi ci sono i singoli soggetti che hanno questo ruolo di accaparrarsi, approvvigionarsi della sostanza e poi distribuirla di volta in volta a livello territoriale. Anche quattro donne finite agli arresti domiciliari, fra le persone raggiunte da provvedimento restrittivo, ha conferma che in attività di questo tipo è coinvolto un numero sempre maggiore di donne. C'è un naturale avvicendamento nelle dinamiche interne, spesso sono familiari, conviventi, compagni, fidanzate, mogli, insomma. Comunque è un avvicendamento dovuto alla carciazione, dovuto agli maggiori controlli che vengono fatti perché grossomodo anche in questo caso abbiamo soggetti che sono già pregiudicati, sono recidivi per le atti specifici, quindi magari ricorrono a questi spedenti per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Il criminologo clinico Sergio Caruso sottolinea ai nostri microfoni l'importanza della prevenzione per arginare atti di violenza di genere, specificando l'importanza di educare e supportare soprattutto le giovani generazioni. Stiamo lavorando tanto sulla prevenzione, anche se c'è da dire che è un fenomeno poco applicato, un ambito della scienza poco applicato perché purtroppo a qualcuno conviene più alimentare il danno che essere la soluzione. Infatti la prevenzione è alla base non solo della medicina e delle neuroscienze, ma è alla base anche della criminologia, in cui se noi non faremo prevenzione e non attueremo delle tecniche per far sì che a lungo termine determinati fattori destrutturanti non accadono più, noi saremo il fallimento e saremo una professione soltanto di falliti. L'impegno di tutti i professionisti impegnati nel sociale, di qualunque ambito essi provengano, è sempre la prevenzione, con grande attenzione in età evolutiva. Ne dico soltanto questo, un buon modo per prevenire e intervenire in ottica preventiva sulle dinamiche che un domani saranno la violenza di genere, lo stalking, l'abuso e l'educazione affettiva, la cosiddetta emotion care, che nei paesi 30 anni più evoluti di noi è già un'ottima realtà ben costituita. Sono trascorsi ben 4 anni dal terremoto del Pollino, era il 26 ottobre 2012, quando la terra tremò e scosse un'intera comunità. Come tutti ricorderete, l'epicentro è stato individuato nei pressi del comune di Mormanno e nel nord della provincia di Cosenza. Un evento sismico molto intenso, di magnitudo 5, che ha provocato moltissimi danni, ma fortunatamente nessuna vittima. Ricorda l'evento il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra. Devo dire che raccontare queste esperienze in pochi minuti è complicato, però provo a dettare giusto alcune tappe più significative. La prima, questo voglio dirlo, noi erano già due anni che nel Pollino e a Mormanno in particolare c'era questo sciame sismico persistente. Quindi la popolazione, non voglio dire che era preparata, ma io peraltro l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi io vivo lì. Quindi quando è arrivata la scossa, quella del 26 ottobre, come l'abbiamo vissuta, come il momento topico, ma di una fase che era durata, come dicevo prima, di tanto tempo. E quindi la prima questione abbiamo avuto davanti, la prima grande questione, è stata quella di costruire un patto di comunità. Che facciamo? Andiamo via da questo paese? Perché è diventato invivibile sotto questo profilo? Oppure comunque lottiamo a costo di rischiare, rientrando nelle case, sapendo come dire che poi si tratta di fare un lavoro importante? Io ho fatto un grande sforzo in questa direzione, ho portato insieme al sindaco della città, la popolazione a dire dobbiamo rimanere, perché io credo che bisogna lottare con forza. La seconda questione che abbiamo avuto, lo Stato centrale, in particolare il capo della protezione civile, voleva delubricare il sisma del Pollino. Erano passate quasi due settimane, non veniva dichiarato lo Stato d'emergenza, perché per fortuna non c'erano stati morti, ma però nello stesso tempo il sindaco del mio paese aveva emanato oltre 250 ordinanze di sgombero di abitazione. E in questo caso c'era questo tendennamento del prefetto Gabrielli, allora anche in quel caso una nuova azione di forza nostra e tutta la comunità, e io in un'assemblea pubblica gli dissi l'eccellenza non può pensare che ci seppellisce vive, chiudendo questo ragionamento. Terzo problema che avevamo, ovviamente in questi casi i riflettori nazionali e le televisioni ci stanno poco sul posto, soprattutto, ripeto, quando non ci sono morti. E quindi l'altro elemento è stato quello di chiedere un grande supporto, soprattutto alle emittenti locali calabresi, di darci una mano e tenere vivo questo segnale di attenzione sul Pollino e in particolare sul Morbano. Dopo la revoca disposta dalla Prefettura di Catanzaro della Convenzione Accoglienza Migranti nei confronti della cooperativa Malgrado Tutto, in seguito a carenze della struttura, i legali Eugenio Caputo e Luisa Cimino contestano quanto avvenuto. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Annunciano contestazioni per le penalità debitate rispetto all'avvio del procedimento di revoca delle convenzioni e successivo svuotamento del centro intentato dalla Prefettura di Catanzaro. Gli avvocati della cooperativa Malgrado Tutto di Lamezza Terme operante nel sociale dal 1978 è più recentemente impegnata nell'accoglienza dei migranti. Il procedimento avvenuto in seguito a dispezione sarebbe ufficialmente motivato da difetto di aereoilluminazione portata a idrica riscontrata all'interno della struttura. Ragioni che, secondo gli avvocati Caputo e Cimino, potrebbero sembrare un pretesto dopo il poverone sollevato al noto programma di Rai 1 all'Arena che ha portato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale sulle criticità della cooperativa Lametina. La conferenza stampa è stata chiesta per sensibilizzare gli organi di informazione e l'opinione pubblica sull'avvenuta revoca di quella che era la convenzione che la cooperativa, malgrado tutto, aveva con la Prefettura di Catanzaro. Revoca che, diciamo, è avvenuta per dei motivi che riteniamo non legittimi in funzione di quello che era il rapporto che la cooperativa aveva con la Prefettura e che ovviamente sono stati impugnati in tribunale. Ma la realtà più preoccupante è che questa revoca comporta il pericolo di disperdere tutti quelli che sono i posti di lavoro della cooperativa. Quindi tutti i dipendenti, le famiglie dei dipendenti e non solo l'attività di integrazione che è stata portata avanti e che la cooperativa porta avanti e che comunque la mezza terme vede quotidianamente è messa in serio rischio, perché comunque sia i ragazzi stanno via via venendo trasferiti in altri centri. Molti di questi, che tra l'altro hanno un contratto di lavoro e che possono sperare ad un accoglimento del ricorso per la protezione umanitaria, chiaramente qualora dovessero essere trasferiti perderebbero anche quest'opportunità lavorativa. Quindi è un insieme di situazioni che crea notevoli problemi non solo alla cooperativa ma anche ai ragazzi stessi. Le criticità che erano state sollevate dalla prefettura sono state assolutamente ottemperate peraltro contestate anche nel merito perché non erano inadempienze contrattuali ma assolutamente delle criticità criticità che con relazione tecnica del 2005-2016 a cui si è fatto riscontro vi è stata trasmissione di tutta la documentazione che la prefettura richiedeva che peraltro in parte avevano già in mano e pensavamo, speravamo anche a seguito del controllo disposto dalla prefettura dell'ennesimo sopralluogo che avendo dato atto che le criticità erano state superate non venisse disposta la revoca della convenzione. E ci spostiamo a Palmi in provincia di Reggio Calabria dove la Guardia di Finanza pone i sigilli al teatro comunale all'aperto pare che la struttura sia priva di collaudo statico. I finanzieri della Compagnia di Palmi hanno sequestrato il teatro all'aperto realizzato in legalità Motta struttura comunale con una capienza di quasi mille posti utilizzata per numerose attività e manifestazioni. Dall'attività di indagine effettuata dalla Guardia di Finanza che hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo è emerso che la struttura, oltre ad alcune parziale difformità tra quanto realizzato rispetto agli elaborati progettuali risulta di fatto priva di collaudo statico e pertanto inagibile. Nella nota firmata dal procuratore Sferlazza si legge che la libera disponibilità della struttura aperta al pubblico potrebbe rappresentare un pericolo per l'incolumità dei fruitori in quanto utilizzata senza la previa osservanza delle prescrizioni volte a verificarne la solidità e la stabilità. E per questa edizione è davvero tutto io vi aspetto alle 20.45 per nuovi approfondimenti grazie e a più tardi. grazie a tutti grazie a tutti